Alcuni studi scientifici evidenziano una potenziale correlazione tra l'inquinamento atmosferico e il rischio di sviluppare patologie autoimmuni. E' quanto emerso al Senato durante la conferenza stampa di presentazione dell'Intergruppo parlamentare per la prevenzione e la cura delle malattie autoimmuni, contestualmente alla nascita del Comitato Tecnico Scientifico, costituito da rappresentanti di 11 società scientifiche e 21 associazioni di pazienti. Noi ne parliamo con Loreto Gesualdo, presidente della FISM, la Federazione delle Società Scientifiche e segretario tecnico dell'Intergruppo parlamentare sulle malattie autoimmuni. In che modo la federazione collaborerà con il Comitato Tecnico Scientifico sulle malattie autoimmuni? Si metterà innanzitutto a disposizione dell'Intergruppo per poter creare dei percorsi diagnostico-assistenziali che possano andare incontro alle necessità del paziente affetto da patologia autoimmune. In modo particolare la FISM in questo momento ha lanciato un progetto che si chiama Ecosistema Digitale per la presa in cura del paziente affetto da multicomorbidità. Il paziente con patologia autoimmune purtroppo soffre di varie patologie, nel senso che molti organi vengono compiti dal processo autoimmune e quindi è un paziente che richiede una multidisciplinarietà che va dal medico di medicina generale agli specialisti del settore. Quali sono gli obiettivi del Comitato Tecnico Scientifico e come sarà di supporto all'Intergruppo parlamentare? Essenzialmente la Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche rappresenta in sé ben 192 società scientifiche. Quindi la possibilità di avere intorno a un tavolo più attori che possano prendere in cura il paziente affetto da patologia autoimmune garantisce il risultato e proietta il progetto verso un risultato positivo. Avete come obiettivo la creazione di linee guida nazionali e percorsi terapeutici su tutti i territori? Stiamo parlando di sanità, stiamo parlando di una sanità universalistica per cui il nostro obiettivo è quello di creare dei percorsi, delle linee guida che possano essere applicate attraverso la conferenza Stato Regioni a tutte le regioni d'Italia. Perché proprio le malattie autoimmuni sono l'oggetto di questo Comitato Tecnico Scientifico? Perché le patologie autoimmuni hanno un'alta comorbidità, sono gravate molte volte anche da un'alta mortalità, quindi la possibilità di una diagnosi precoce permette un trattamento precoce e quindi un miglior outcome dei nostri pazienti. Lei nel suo intervento ha menzionato degli studi sulla possibile correlazione tra inquinamento e patologie autoimmuni, ci spiega meglio? Normalmente il nostro organismo, tutti quanti noi abbiamo il nostro background genetico. Su un background genetico predisposto ad una malattia autoimmune, se intervengano case esterne, tra le quali in modo particolare l'inquinamento ambientale, questo può determinare il cosiddetto innesco della patologia, quindi intervenire sulle condizioni ambientali significa anche ridurre l'insorgenza di patologie, tra queste le patologie autoimmuni.